Ciao a tutti amici di Quelli che eroi, vi do un appuntamento importante. Venerdì 24 maggio alle ore 19.30 nel cortile di Palazzo Ducale ci sarà un evento un po' particolare. Io sarò lì con i quattro cori che dirigo, il quarto coro, il coro canto libero, il coro a quattro canti e il coro d'anio e faremo una cosa che abbiamo intitolato In coro per la pace. Ogni coro eseguirà quattro brani e poi alla fine, 150 persone circa, si canterà insieme Aquarius e c'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones. Vi invito tutti, l'ingresso ovviamente è gratuito, fate girare la voce perché visto che la cosa è per la pace se fossimo un bel numero, un bel Palazzo Ducale strapieno la cosa ci farebbe molto piacere. Ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie.